Namaste, ciao sono Sara e in questa pratica di yoga vorrei proporti alcune posizioni per andare a migliorare la tua postura. Iniziamo portandoci con la schiena in terra, iniziamo a sentire la nostra colonna, quindi ci sdraiamo, i piedi sono in terra, inizia a sentire come sdraiandoti in terra se magari ci sono delle parti che senti più contratte, se riesci ad appiattire la schiena in terra, ad esempio se la parte lombare, ora io sto esagerando ma si rimane molto sollevata, in questo caso fai pressione con i piedi in terra, ruota il bacino, quindi come se volessi muovere il coccige verso l'alto, attivi i muscoli addominali, in questo modo riuscirai a distendere la schiena a terra. Risaliamo, proviamo a sentire la parte più alta della nostra schiena, prova ad allargare le braccia ai lati, senti come si senti, come ti senti, cosa provi in questa posizione, se è ancora confortevole, e poi proviamo lentamente a sollevare le braccia oltre la nostra testa, e qui cerca di fare due cose, la prima è di mantenere la parte lombare in terra, quindi senza inarcare la schiena, l'addome sempre attivo, e cerca anche di non sollevare il mento verso l'alto, ma di portarlo verso il petto, in modo tale da distendere anche il tratto cervicale. E qui cerchiamo di respirare, quindi di espandere, ispirando, espandere la nostra cassa toracica, ed espirare, far appiattire bene la schiena a terra. Ancora una volta, inspiriamo, e espiriamo. Ora facciamo scendere le ginocchia verso destra, ci voltiamo sul lato destro del corpo, con la mano sinistra, ci aiutiamo a sederci. Ci portiamo a quattro punti, quindi con le ginocchia a terra e con le mani in terra, i polsi sotto le spalle o leggermente un po' più avanti. Anche qui notiamo la nostra postura. Nota se la schiena, le spalle cadono tra le braccia, se la parte lombare, l'addome cade verso il basso. E cerchiamo di attivare correttamente la muscolatura, quindi attivi l'addome, spingi dolcemente con le mani in terra per separare le scapole, il collo rimane lungo. E anche qui respiriamo, ispira, si allarga l'addome, si allarga il torace e ispira. E di nuovo, ispira ed ispira. Ancora. Facciamo un'ultima volta. Benissimo. Poi puntiamo le dita di piedi in terra, avviciniamo le mani alle ginocchia, solleviamo le ginocchia, mettiamo i piedi a terra, larghi alla larghezza del nostro bacino, paralleli fra di loro. Le mani vanno sotto le ginocchia e qui cerchiamo di distendere la nostra schiena, portare il busto a essere parallelo a terra. Il collo è lungo, quindi non siamo incassati nelle spalle, non facciamo cadere la pancia e non arrotondiamo la schiena. Vogliamo proprio creare spazio, creare lunghezza nella nostra schiena. E anche qui respiriamo. Inspirando, l'addome scende verso il basso, il torace si allarga, espiriamo. Inspira. Espira. Ancora. Ora inspira, stendi la schiena, espira, ammorbidisci le ginocchia, le mani vanno a terra, la testa scende. Di nuovo, ispirando, mani sotto le ginocchia, stendo e allungo la schiena e espiro, scendo giù con le ginocchia morbide. Di nuovo, inspiro ed espiro. Le mani in terra, le muovo un po' più in avanti per riappoggiare le ginocchia a terra, mi siedo da un lato per portare le gambe davanti a me. Quello che facciamo ora è di cercare di stendere la nostra schiena. Le gambe anche devono essere forti, i piedi spingono in terra, sento che si attivano i muscoli interni delle gambe per mantenere le ginocchia parallele. Metti le mani sulle ginocchia e incomincia a stendere la schiena. Nota se ti inarchi indietro, cerca di allungarla verso l'alto, quindi quando inspiro in particolare riesco a allungare, espiro, l'addome rientra e rimango qui. Di nuovo, ispiro ed espiro. Ora proviamo a sollevare le braccia verso l'alto. Se stenderle verso la testa è troppo, piegale a cactus in questo modo e cerca sempre di portare il petto verso le gambe, la schiena dritta. Respira, inspiro ed espiro. Ancora, inspira ed espira. Un'ultima volta, inspira ed espira. Sciogli le mani in terra, agita un po' le gambe. Benissimo, queste sono semplici posizioni che ti servono per fare una cosa importantissima, renderti conto della postura della tua schiena, perché spesso non ci rendiamo conto che manteniamo costantemente una postura scorretta. E questa postura scorretta impedisce la respirazione completa, ci impedisce di respirare al meglio. Quindi è per questo che ti indico sempre di respirare, perché puoi capire come modificando, davvero distendendo la tua schiena puoi respirare in modo più completo. Ed è, diciamo, la postura aiuta il respiro e il respiro aiuta la postura. Quindi respirando a pieno senti anche meglio come si può distendere la tua schiena. Sono esercizi, sono posizioni molto semplici che puoi fare, soprattutto la mattina, per togliere magari un po' di torpore dalla muscolatura, che ovvio si crei durante le ore di sonno a letto. E quindi iniziare la giornata che già puoi respirare meglio, quindi puoi avere più energia per tutto il giorno. Noi ci vediamo alla prossima. Namaste. Grazie.